Ti sei mai fermato davvero a pensare quanto il cibo che mangi, il tipo di alimentazione che hai, abbia un'influenza diretta sul tuo modo di essere? Io penso di sì, perché sicuramente avrai già sentito parlare, avrai già sentito dire la frase tante volte, noi siamo quello che mangiamo. Ma cosa vuol dire esattamente noi siamo quello che mangiamo? Vuol dire che quando tu decidi di mangiare un cibo non stai soltanto mettendo qualcosa in bocca che non avrà nessun tipo di influenza sullo scorrere delle tue giornate, non stai soltanto riempendo la pancia perché senti fame, ma stai dando un contributo significativo al tuo futuro modo di essere. Perché noi siamo quello che mangiamo, vuol dire che la straordinaria biochimica che è presente nell'alimentazione, quindi in ogni cibo che decidi di ingerire si trasforma in un modo veramente straordinario nel nostro laboratorio dell'organismo, oltre che in vitamine, in enzimi, in minerali, in amminoacidi, si trasforma in cellula di pensiero. Quindi può diventare davvero, può esercitare davvero un'influenza molto molto importante su quelli che saranno i sentimenti della giornata, su quello che sarà il tuo modo di affrontare la giornata, su quello che dirai alle persone, su come affronterai le situazioni e gestirai le cose. Questo dipende moltissimo dal cibo, anche se magari tu non avresti mai detto una cosa del genere, cioè non avresti mai dato un'influenza diretta rispetto a quello che mangi a, non so, una tua attitudine magari a essere un po' più nervoso, essere un po' più abbattuto o essere demotivato. Molto spesso pensiamo che un lato del nostro carattere possa dipendere davvero soltanto da come noi siamo, cioè io sono fatto così, io sono nato così, io geneticamente sono così e non pensiamo davvero mai alle influenze che il cibo possa esercitare realmente sulle nostre vite, quindi sul nostro modo proprio di relazionarsi alle persone. In medicina tradizionale cinese, che è la medicina che io ho veramente studiato tanti anni in naturopatia, mi è sempre stata insegnata questa cosa, il valore che gli alimenti hanno, quindi un valore yin piuttosto che un valore yang, quindi un valore di espansione o di contrazione, un valore di femminilità o mascolinità, un valore di aggressività piuttosto che di remissione. Questo causa l'alimento o produce l'alimento nel nostro corpo ogni volta che noi mangiamo. Per esempio mi viene in mente, non so se sei un abituale consumatore di caffè, che tu possa essere sempre molto agitato, molto nervoso e abbia costantemente bisogno ogni poco, ogni, non so, tipo ogni due ore di riassumere nel tuo organismo qualcosa che ti ridia quella tonicità che soltanto il caffè sembra darti, per esempio, no? Oppure non so, sei un grandissimo consumatore di latticini, allora forse potresti essere un tipo flemmatico, un tipo un po' rinunciatario, un tipo che si pone degli obiettivi ma non riesce a portarli a fondo, molto flemmatico, molto lento, perché il latte e i latticini e in generale le cose bianche, quindi le cose candide, per esempio, rilassano fino a causare flemma, muco, rallentamento del sistema energetico e rallentamento anche del metabolismo. Oppure mi viene in mente tu che sei un forte consumatore di zuccheri, che puoi davvero avere dei cali energetici molto pesanti ma anche dei picchi fortissimi, quindi puoi avere dei grossi sbalzi di umore per esempio, puoi essere un attimo gioioso e un attimo dopo subito depresso e questo è quello che fa lo zucchero nel tuo organismo, cioè porta il tuo sistema nervoso a espandersi enormemente e poi a ricontrarsi nel momento in cui l'effetto della droga che è lo zucchero cala e quindi tu ti ritrovi da un momento, da uno stato di euforia incredibile a una stanchezza estrema, non riesci a capire perché, non riesci a ritornare a come eri prima e questa cosa ti rende molto frustrato, quindi alti e bassi di umore. Questo perché, ti ripeto, l'alimentazione esercita un potere enorme su ciò che noi siamo, sui nostri sentimenti, sulle nostre emozioni ed è possibile che molti comportamenti possano cambiare, molti lati del carattere, molti modi di fare, molti aspetti proprio nell'affrontare la giornata semplicemente cambiando alimentazione. Quindi, mentre tu adesso ti stai proprio alimentando ai lati estremi della bilancia alimentare, per cui ogni volta che mangi per esempio un cibo troppo yin, hai bisogno di un cibo troppo yang per compensare, mi viene in mente, non so, hai fatto un grandissimo pranzo pantagruelico a base di carne, grassi, zucre, hai fatto una roba incredibile in cui veramente hai mangiato l'impossibile, senti chiaramente poi il bisogno di qualcosa che ti tiri su, che può essere un caffè, che invece poi ti dà la botta finale dopo un pranzo del genere. Allora, in realtà poi dico cos'è che hai bisogno, hai bisogno soltanto di dormire, perché il tuo fegato ha un carico di lavoro talmente forte, talmente grosso da smaltire, che ti porta in uno stato yin, ti porta proprio in uno stato in cui dici no, ora basta, adesso tutti fermi e stai un pochino tranquillo perché ti puoi bere anche 20 caffè, in questo momento non riuscirai a essere svegli, hai bisogno di farti la pennichella dopo pranzo. Oppure mi viene in mente una persona appunto che ha bisogno, dopo aver bevuto tantissimi caffè, di qualcosa che lo calmi, che lo porti a una centratura, che lo centri proprio, che lo faccia sentire fermo. Allora magari va erroneamente per esempio a cercare gli zuccheri, perché gli zuccheri causano flemma, causano appunto uno stato di morbidezza, di finta calma e anche molto apparente, anche molto temporanea. Però in quel momento una persona che ha fatto un eccesso da un punto di vista deve assolutamente e velocemente riparare il danno con un altro eccesso. Se invece, tu che invece di andare a ricercare lo zucchero, per esempio, dopo aver fatto una scorpacciata di caffè, vai a cercare un cucchiaino di burro di ghi e lo metti in un po' di acqua calda e invece di assumere il zucchero, quindi assumere i grassi, puoi riportare assolutamente la calma nel tuo sistema energetico, nel tuo sistema corpo-mente, in maniera da non aver più bisogno di andare a ricercare l'altro eccesso. Quindi il trucco qual è per uscire da questa ruota di questo cresceto che non si ferma mai? Il trucco è passare dagli estremi della bilancia alimentare al centro della bilancia alimentare. Il centro della bilancia alimentare non è altro che il centro dell'alimentazione equilibrata e naturale, quindi dai spazio ai grassi buoni, dai spazio alle proteine di qualità, quindi lo dico sempre, sì mangiare carne e pesce, ma ovviamente sempre di un certo tipo, quindi di qualità biologica, allevamenti da pascolo, pesce selvaggio, eccetera, dai spazio alle fibre, quindi verdura assolutamente in primis, frutta poca, cereali integrali e portando quindi la bilancia nel mezzo vedrai che piano piano sentirai sempre e sempre meno il bisogno di introdurre alimenti che cambiano il tuo sistema nervoso in maniera incontrollabile, quindi che tu sia un tipo flemmatico, quindi un grande consumatore di latticini, che tu sia un tipo nervoso, che ti piace molto consumare caffè o cioccolata, che tu sia un tipo con alti e bassi d'umore, quindi un grande consumatore di zuccheri, avrai un grandissimo aiuto nel cambiare alimentazione. Non pensare che questo qui, quello che ti sto dicendo, non sia realizzabile, oppure che tu sia così semplicemente perché sei nato così è il tuo carattere, il carattere può cambiare, si può aiutare tantissimo per esempio l'intestino a stare bene, perché molto spesso alti e bassi d'umore dipendono da disordini e disbiosi intestinali, facendo questo si cambia completamente, fino a volte quasi a non riconoscersi più, quindi è veramente molto più semplice di quello che pensi. Cerca di capire che quello che mangi non è soltanto un mezzo per farti passare la fame, pensalo, sentilo come un qualcosa che ti regali per essere migliore del momento prima, quindi sempre migliore, ogni volta, a ogni pasto, quindi diventa assolutamente alimentazione funzionale, funzionare al tuo benessere, funzionare al benessere psichico, al benessere fisico, al benessere spirituale, al benessere mentale. Noi siamo tutti questi piani e assolutamente abbiamo bisogno di stare in uno stato di equilibrio per poter vivere meglio su questa terra.